Fra le riforme poco conosciute dell'ONU, una di esse è stata quella di creare Hub, giganteschi magazzini in giro per il mondo per intervenire negli scenari di crisi. Fra le località cebrindis in Puglia, qui siamo invece a Dubai, che ospita il più grande di questi enormi magazzini, e da qui che lo OMS fa partire molte delle sue operazioni. Siamo in mezzo a una pandemia mai vista prima. Adesso siamo in grado di distribuire questo materiale dovunque e rapidamente, in modo da rispondere agli sforzi per contenere il virus. Fino ad ora sono state consegnate centinaia di migliaia di mascherine chirurgiche e guanti e oltre 100.000 tenute per medici al fine di proteggere i lavoratori della salute in giro per il mondo. Le restrizioni dei vari stati però hanno rappresentato nuove sfide logistiche globali. Stiamo incontrando sempre maggiori difficoltà a causa delle restrizioni che ogni paese ha messo in atto. Stiamo lavorando con il governo degli Emirati per distribuire materiale in Africa e in tutta l'Asia e in Medio Oriente, grazie ai voli charter. Visti i territori interessati, la posizione geografica di Dubai è strategica. L'italiano Giuseppe Saba è uno dei cervelli dietro questa gigantesca operazione. Da Dubai ci vogliono fra le 6 e le 8 ore per raggiungere due terzi della popolazione mondiale. Oggi la pandemia mette a rischio l'intera popolazione mondiale, ma la posizione di Dubai ci permette di raggiungere velocemente i due terzi della popolazione sul pianeta. I responsabili della base cercano di rispondere il più velocemente possibile alle richieste e lo fanno con ulteriori timori, che possano esserci cioè nuove ondate di infezione da Covid-19 sommate ad altre emergenze umanitarie nei prossimi mesi. Grazie a tutti.